Continuano i problemi per il turismo abruzzese in questa stagione già difficile di per sé dopo i problemi del coronavirus. L'altro giorno c'è stata l'ennesima erosione e tanti concessionari di spiaggia hanno avuto tantissimi problemi con ombrelloni in mezzo al mare. Questa regione aveva promesso 7 milioni di euro di interventi per contrastare l'erosione costiera e quest'anno non hanno prodotto nulla, né rifioritura delle scogliere, né nuove scogliere, né tantomeno i ripascimenti promessi. Avevamo approvato un emendamento su proposta del PD e del centro-sinistra per concedere un milione di euro ai tanti stabilimenti balneari che hanno subito queste mareggiate. La legge è stata approvata qualche settimana fa, il 21 di giugno la giunta regionale doveva deliberare le modalità di erogazione e di concessione di questi contributi. Siamo a metà luglio quasi e la giunta regionale è completamente assente su questo tema fondamentale che è il turismo abruzzese.